Mr. Cabrini, 35 anni fa quella serata fantastica e indimenticabile a Madrid al Bernabeu, 35 anni dopo, qual è la prima istantanea che le viene in mente ripensando a quella serata? Ripensando a quella serata che poi è stata il culmine di un grande trionfo di tutto l'ambiente federale, soprattutto di una squadra che era più che una squadra, era un grande gruppo, è stato il triplo fisco finale quando appunto ci siamo resi conti per la prima volta che eravamo a campione del mondo. È stata un'immagine forte e nello stesso tempo bellissima perché comunque questi sono ricordi indimenticabili che ti porti dentro per tutta la vita. Tu hai vissuto una serata unica, nel senso sei passato dall'incubo del rigore sbagliato fino all'estasi della vittoria finale. Anche ho scritto un libro che cita De Gregori nel titolo e dice non aver paura di tirare un calcio di rigore. Ripensando a quel rigore adesso, 35 anni dopo? Beh, me lo ricordano più che altro le altre persone. E' chiaro che comunque la soddisfazione è quella che nonostante un errore in una finale di Coppa del Mondo, poi dopo la fine siamo riusciti a trionfare e a diventare campioni del mondo. Quindi è passato tutto in secondo piano. E' normale che, spesso volentieri dico che non bisogna avere paura di tirare un calcio di rigore, soprattutto se lo tiri perché hai la convinzione di poter far bene, soprattutto il coraggio di tirarlo. Ricordavi che era un grande gruppo e c'era a capo di quel gruppo un grande allenatore come Enzo Berzot. Ricordi una frase, delle parole particolari che pronunciò te o alla squadra più in generale in quel mondiale che ti sono rimaste particolarmente impresse? Beh, lui in quel mondiale, frasi importanti che hanno lasciato veramente il segno nella storia del calcio, ne hanno avute tante in quel periodo. Si è messo davanti a tutti e contro tutti, difendendoci all'inizio del periodo mondiale, perché le cose non stavano andando bene, lui ci ha detto di non preoccuparsi di pensare a giocare, di pensarsi a allenare, perché al resto ci pensava lui. Era un po' come, io l'ho sempre un po' legato alla storia di Don Quixote con l'armata Brancaleone. In quel momento noi eravamo un'armata Brancaleone e lui era Don Quixote, però lui era sempre davanti a noi. Ci tutelava. Quella è sicuramente un'immagine molto importante. E poi appunto una frase sua che dopo il rigore mi disse, forse non ti rendi conto che dopo questo errore, dopo questo rigore sbagliato, noi vinciamo questo finale. Era convinto. Ti porti dietro qualcosa del modo di interpretare il ruolo allenatore di Brancel? Beh, è chiaro che devi sapere, apprendere dagli allenatori che ho avuto quando giocavo a calcio, di apprendere il meglio, cercare di estrapolare le cose più buone e poi interpretarle sul campo di gioco quando appunto diventi allenatore. Ho cercato di prendere un po' il buono da tutti gli allenatori che secondo me mi hanno lasciato il segno e mi hanno dato qualcosa. In chiusura veniamo all'Europa 2017. Quella squadra dell'82 viveva in una situazione complicata e con la forza del gruppo riuscì ad affrontarla. La tua squadra in vista di quest'Europa affronterà un girone piuttosto complicato perché dovremo probabilmente compiere un'impresa contro una delle due finaliste dell'ultima Olimpiade, vale a dire Germania e Svezia. Ovviamente dopo aver battuto la Russia, che è il primo compito difficile che ci aspetta. Proverai a trasmettere un po' di quello spirito dell'82 alla tua squadra e alle tue ragazze? Non è paragonabile alla situazione di quel mondiale dell'82. È chiaro che sappiamo benissimo le difficoltà che andiamo incontro. Bisogna dire che comunque questa squadra ha già raggiunto grandissimi risultati. Il fatto di qualificarsi per le fasi finali europee è sicuramente un passo importantissimo per tutto il movimento calcistico italiano, ma anche un passo importante per le stesse ragazze che comunque ci hanno messo tanto del loro e sono riusciti ad arrivare a questa qualificazione. Chiaro, tutto quello che viene è tutto di guadagnato. È normale che quello che voglio da loro e l'atteggiamento che dovranno ottenere in campo fin dalla prima partita perché non devono assolutamente pensare di partire sconfitto e essere quelli che concedono molto all'avversario. Se la giochiamo alla pari, quello che chiedo a loro è quello di giocarsela alla pari e soprattutto poter dimostrare che comunque anche noi abbiamo una fisionomia precisa e un'entità importante. Grazie a tutti.